Una giornata di studi nella sala giunta di Palazzo San Giacomo per ricordare ad un anno dalla scomparsa Paride Giustino Caputi, professore di urbanistica ed assessore alle periferie e ai cimiteri del Comune di Napoli. Per l'occasione è stato promosso un convegno su urbanistica e partecipazione, al quale hanno preso parte amici e colleghi che hanno condiviso le sue esperienze umane e professionali. Paride Caputi è stato innanzitutto un innovatore nella sua disciplina, era un urbanista, uno studioso di architettura e quindi in qualche modo viveva questa pratica e questa disciplina come strumento di cambiamento e questo l'ha portato e non poteva non portarlo a un impegno politico e istituzionale anche diretto, attraverso cui appunto ha cercato di perseguire finalità di cambiamento. L'iniziativa, aperta dall'assessore alla cultura e turismo Nino Daniele, ha visto la partecipazione di diversi professionisti che hanno sostenuto gli studi e gli ideali del professor Caputi. Parte fondamentale della sua opera, della sua ricerca, del suo lavoro, del suo insegnamento è dedicato al tema delle periferie, quindi come ribaltare una gerarchia urbana dentro cui maturavano escursioni e emarginazioni. Quindi un grande protagonista della vita civile e intellettuale della nostra città e non potevamo se non convocare per una discussione sul suo lavoro e sul suo lascito tante intelligenze e soprattutto tanti giovani che ancora continuano a studiare e a ricercare del socco da lui tracciato.